giuseppe madonna del ponte ma che caratteristiche ha perché si chiama madonna del ponte dove l'hanno trovato e dopo sotto di un ponte ma che trovano a maronna allora maronna e tutte quando c'è la festa della madonna del ponte a mezzo e noi pettine cosa vanno a nascere sulla nascono le camise e si prendono e si prendono al direttore perché perché l'hanno trovato tutti lui al camise al camise e parte le cose e se c'erano cosa vuoi portare la madonna no però come stai a partire a partire qui e qui a partire a lei allora chiede a partire le cose a mezzogiorno preciso quando c'è la festa della madonna del ponte l'hanno a nascere se lui dà mezzogiorno preciso la nascono le camise e si prendono al direttore e allora ci sono uscite la sua carabiniera vera ma se uscite la sua carabiniera